Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Matteo, capitolo 25, versi di 14 a 30, la parabola dei talenti. La parabola ti racconta che un padrone, prima di partire un viaggio, confidò i suoi beni ai servi, tre servi. Al primo ha dato cinque talenti, al secondo due, al terzo un talento, secondo le capacità. Lui parte di un viaggio e nel tornare chiede un resoconto a questi suoi servi. I primi due hanno fruttificato i talenti ricevuti, ma invece l'ultimo, il terzo, ha nascosto il talento per paura. Non voleva essere rimproverato dal suo padrone, oppure la paura che questi non fruttifichi. Allora è meglio non osare che osare e ha preferito nascondere il talento. La parabola, e poi a chi ha moltiplicato il padrone ha detto, entri nella gioia del tuo padrone. La parabola punta sul resoconto di ciò che Dio ha dato a ciascuno di noi per entrare in questa grazia del Signore. Ricordatevi che questo nostro brano è preceduto dal brano delle vergini. Le sagge sono entrate nella festa, invece le stolte sono rimaste fuori. Allora è quella gioia che è da condividere e per entrare in questa gioia tocca usufruire e fruttificare i doni ricevuti da parte del Signore. Dunque il brano vorrebbe richiamare ciascuno di noi a comprendere la volontà di Dio. La volontà di Dio è di vederti vivere nella gioia, entrare nel suo regno nella piena gioia. Però per arrivare a questa gioia tocca mettere, tocca fruttificare i doni ricevuti. Allora, il primo elemento da sottolineare è proprio i doni ricevuti. Cioè capire che cosa Dio mi ha dato, quali sono i miei doni. Quando parliamo dei doni possono essere i doni spirituali, i doni materiali, tanti doni ci sono. Un dono è che cosa? Un dono sarebbe la cosa a cui tu ti tieni, che ti dà gioia quando la cosa viene dal Signore. Dove tu pensi realizzarti, dove tu pensi veramente realizzare i tuoi sogni. Ecco, questo sarebbe il dono, un dono che Dio ci ha dato, che noi potremmo tradurre con i talenti. Ecco, ognuno di noi ha ricevuto qualcosa. E da sottolineare anche la capacità, la parola capacità. Il padrone ha dato ai servi secondo le capacità o la capacità di ciascuno. Dio offre a ognuno di noi secondo le nostre capacità. Allora, inutile invidiare l'altro che ha più o meno. Inutile guardare l'altro con un occhio storto. Non serve perché tutti non possono avere tutto, ma ognuno riceve in base alle sue capacità. Come fanno i genitori, no? Per orientare i figli dopo aver ascoltato, si guarda ma dove lui è capace, che cosa può fare. Allora è orientato in base al suo desiderio, alle sue capacità intellettuali. Tutte le forze, secondo le sue forze. Allora i genitori orientano il figlio secondo le sue capacità intellettuali, manuali e così via. Dio ugualmente offre a ciascuno di noi secondo le nostre capacità. Perché sa che a te ci vuole quello, all'altro ci vuole quello. E il poco che abbiamo è grande. Il poco che abbiamo è grande. È sufficiente. È sufficiente per vivere nella gioia. Ma l'unica condizione è di fruttificare i doni che abbiamo ricevuto. Perché tanti di noi passano più tempo a lamentarsi. A lamentarsi o a guardare gli altri. Ma intanto perché tu non puoi riflettere? Perché tu non puoi valutare che cosa tu hai nelle mani? Che cosa ci viene facile a fare? Perché non lo fai? Se tu pensi essere agricoltore, perché vuoi andare nell'ufficio? Per dare un esempio semplice così. E dunque per noi entrare nella gioia tocca moltiplicare. E che vuol dire moltiplicare questi doni? Mettere al servizio degli altri. Come lo dice la prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 4, versetto 9 a 11. Che ognuno mette alla disposizione degli altri i doni ricevuti. Ecco, dunque questo è un modo di fruttificare. Perché? Voi lo sapete. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora, quando abbiamo fruttificato, entreremo proprio nella felicità, nella gioia. Perché saremo colmati. E la cosa importante è non vergognarci come quel terzo servo. Perché tanti di noi hanno paura di impegnarsi. Hanno paura di osare. Hanno paura di provare. Hanno paura proprio neanche di guardare. Se non proviamo, non potremo neanche conoscere, non potremo neanche sapere. Naturalmente dipende dalle cose da sapere. Dunque l'impegno nostro. Siamo invitati a impegnarci affinché potremo veramente trovare la grazia e la gioia. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre. Che Dio vi benedica sempre.